Mastro del Cielo, parco di Dio, Mite, anello, redentore, tu che i vacchi da lungi sono, tu che angeli che voci non fanno. Signor Hariri, lei è di fede musulmana, di fronte a un canto così chiaro, così tipico della tradizione cristiana, lei come reagisce? Ma io reagisco positivamente. Perché? Il canto è molto bello e mi piace l'idea di un inno religioso. Mi sento a casa, perché sono nato e vissuto qua, ho fatto le scuole qua, e ritengo abbastanza importante, se il cantone, se la popolazione ritiene la religione ancora un elemento importante, fondante, sono contento che seguano le loro tradizioni. Ok, lei questo canto l'ha imparato quando era piccolo? Sì, Mastro del Cielo, sì, sì. Ok, e il cambiamento ad un'altra fede non le pone problema? No, anzi, perché è l'occasione, è l'occasione di confrontarsi. Questa è l'occasione di imparare la mia religione. È successo così perché quello era il momento in cui i miei genitori hanno cominciato a insegnarmi la mia religione e a costruire la mia identità. Ok, signor Lafranchini, lei è direttore di una scuola cattolica? Se posso chiederle, lei come passerà questo Natale? Lo passerò in famiglia, è un momento di raccoglimento, è un momento facile, è un momento anche per ricordare la propria identità religiosa comunque. Però è la questione diversa, dipende dalla questione se la famiglia è mista o la famiglia non è mista. E la sua è mista, immagino. La mia è una famiglia mista, esatto. È interessante questo, dunque come... Dunque io il Natale da bambino lo festeggiavo, non ci manca. Ecco, ma adesso funziona lo stesso, la chimica nello stesso modo o funziona meglio addirittura? Allora, il senso è questo perché come precetto religioso nell'Islam bisogna, è un precetto religioso, è un comando di rispettare le religioni cristiane, le religioni ebraiche. Perciò di rispettare il culto e di permettere anche le loro feste. Dunque in un caso di una famiglia mista, il Natale, se uno dei genitori è cristiano, il Natale viene festeggiato, forse un po' in tono minore per il rispetto dell'altro genitore, però si crea questo ambiente di, comunque, di religione e di rispetto per il genitore cristiano. Ho capito. Se il nessuno è musulmano nella famiglia è un ottimo momento per stare insieme comunque. E ci saranno altre feste in altri momenti per i musulmani. Ecco, esattamente, volevo chiederle questo, ecco, se mi permettete perché sono curioso, mi interessa. Quali sono le feste più importanti per voi, paragonabile al Natale? Due, ne abbiamo sicuramente due. Ce le descrive brevemente. Allora, una dura tre giorni, tutte e due durano tre giorni. La prima viene dopo il lungo mese di Ramadan, il mese del digiuno. È un mese di festa, dopo ci sono tre giorni di festa, di raccoglimento, dove si fanno molte cose simili a come i cristiani passano il Natale insieme. Cosa celebrate il Ramadan per i nostri telespettatori che sanno in due parole? Che cos'è? Perché lo si sente ripetere e io sono sicuro che molti non lo sanno. Cos'è? Il Ramadan è un mese di digiuno, dalla mattina alla sera. Ma perché lo si fa? In ricordo di qualcosa? Allora, è una pratica comunque antica, molto antica. Anche Gesù, anche altri profeti facevano questa pratica del digiuno. ha molti vantaggi, sia, per noi crediamo, sia salutari che spirituali. È un aiuto a capire la sofferenza dei poveri, a capire chi soffre la fame e a autocontrollarsi. Ok. Questo è il senso del Ramadan e alla fine c'è una lunga festa di tre giorni. Sì, posso immaginarmi. E abbiamo anche un'altra festa dopo il pellegrinaggio, anche quella di tre giorni. Pellegrinaggio a Mecca. A Mecca, scusi. C'è un periodo di pellegrinaggio e alla fine si festeggia ricordando il sacrificio del profeta Abramo con il suo primo genito. Che fa parte della tradizione cristiana. Che fa anche parte della tradizione cristiana. E per quello abbiamo tre giorni di festa. Voi, in una proposta così, entrate in materia? Sì, assolutamente. Quando ci sono valori universali, pacifici, di amore, li vediamo in modo molto positivo. Se si può andare oltre e seguire il consiglio del professor Stinelli, mi sembra davvero una... Quello che credo qualcuno di voi diceva prima, cioè che paradossalmente è più facile che delle religioni si incontrino e si valorizzino che non invece chi non crede a questo punto si trova in difficoltà. Però io parlavo anche di non credenti. Sì, però diciamo che i non credenti non sono pochi. E dunque è comunque una componente importante delle nostre società con cui bisogna avere del rispetto. Se siete d'accordo, perché il tempo purtroppo è tiranno, io passerei, perché abbiamo già affrontato la questione delle istituzioni, la scuola e il professore ci ha ricordato alcune cose dal punto di vista istituzionale, io vi leggo brevemente due strofe dell'inno svizzero e magari possiamo terminare questa nostra chiacchierata su questo punto. Noi siamo in un paese, come dicevo, che non solo ha la bandiera, la croce sulla bandiera, ma ha anche un inno nazionale che dice questo. Quando bionda aurora il mattin cindora, l'alma mia t'adora, re del cielo. Quando l'alpe già rosseggia, a pregare allor t'atteggia. È un invito alla preghiera. In favore del patrio suol, in favore del patrio suol. Cittadino, Dio lo vuol. Sottolineo cittadino, perché c'è anche cittadino e non solo Dio. Quando rugge e strepita impettuoso il nembo, me o stè il tuo grembo, o signor, in te fido onnipotente. De proteggi la nostra gente, libertà, concordia, amore, all'elvezia, serba, ognor. Non so quanti sono gli inni nazionali che contengono queste parole, ma qui l'affermazione dell'identità religiosa è molto forte. Allora, anzitutto, a lei questo inno va bene? Sì, non abbiamo nessun problema con questo inno. Questo definisce l'identità del popolo svizzero, e anzi mi sembra piacevole quando un popolo, una cultura, anche nella Costituzione, si comincia con il nome di Dio. Perciò ci piace un riferimento religioso al Dio. Barella, e la parola finale la do alla persona che apparentemente sembra più lontana da quella che è la nostra tradizione religiosa. Lei che cosa augura per le feste che vengono? L'Islam riconosce Gesù come il Messia, figlio della Vergine Maria. Dunque auguro a tutti un incontro anche su questo personaggio, un dibattito su questo personaggio, che può essere un elemento di grande vicinanza tra le nostre culture e le nostre religioni, e un percorso di pace. Grazie mille. La parola che è stata pronunciata alla fine, la parola pace, e credo che possiamo trasmetterla anche ai nostri telespettatori e tutti i concordi attorno a questa parola. Oltreiche, يا Maryem, إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين 8- ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين 9- قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر 10- قال كذلك الله يخلق ما يشاء 11- إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 12- ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل